Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Harry e Meghan potrebbero essere sull'orlo di una rottura, secondo recenti indiscrezioni. L'ex principe, trasferitosi negli Stati Uniti con Meghan, sembra lottare con la noia e una vita priva di stimoli, causando tensioni tra i due. Tom Quinn, esperto della famiglia reale, rivela che Harry, 39 anni, si sente vuoto senza la compagnia di amici e familiari rimasti in Gran Bretagna, dove ha avuto relazioni significative legate alla sua carriera militare e scolastica. Non avendo molto da fare, oltre a supportare Meghan nella sua carriera, Harry si sente trascurato. Meghan, d'altro canto, è impegnata con il lancio del suo marchio e la produzione di una serie per Netflix, e potrebbe percepire la mancanza di ambizione del marito come un problema. Questo squilibrio tra le loro attività e aspirazioni sembra aver alimentato tensioni significative nella loro relazione.